Parlerò con Ardinghelli personalmente. Io e Giuliano dobbiamo andare a Milano per capire se la nostra alleanza è solita. Quanto mi sei mancato. Fa' attenzione. Non ti vero. Dico sul serio. Già una volta sei scampato per un soffio alla morte. Sei un aiuto per tuo padre. E come posso aiutarlo? Lo verai in mano. Davvero? Sì. Non avrai il mio cuore finché dovrò dividerti con quella donna. Rinuncio all'amore ma non ha rispetto. Se la sposerai, le cose per noi cambieranno. Non devo cambiare. Non è più so tra quanto potevano essere diverse le cose per noi. Cosa vuoi dire? Magari se io fossi una paia più ricca, o tu più povero, forse starete insieme. Forse è vero. Adesso mia madre vuole vedermi sposato con la novità romana. Sposato? Ti disturba? Perché non dovrebbe? Forse perché sei già sposata. Sì, ma ho sposato un uomo che non amo. Sai quello che provo per te. Ma lei è mia moglie. Salve, le persone si amano e si perdono a volte. Pensi di non poter andare avanti, ma poi lavori e lo fai. Il lavoro ti fa superare una giornata e quello dopo. Senti quello che dici, Lorenzo. Lo amate? Se lo amate, lasciatelo. Per lei perderti sarà stato molto doloroso. Lui li amava. Non ostacolatelo se anche voi lo amate. Quello che fa non lo fa per se stesso, ma per tutti noi. È una vita inutile ciò che temo. Non amore te. Per tuoi amico. Se ti ho fatto del male. Vattene. Lucrezia, che cosa ho detto? Ti prego, vattene. 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 Vattene.